Mi ritengo soddisfatto. 25 aprile al Festival di Monte Iato, indimenticabile festa. La prima dopo il patto firmato dai sindaci di Valle del Noiato con Io Compro Siciliano. Ho voluto la presenza di altri sindaci per dire che siamo tutti un territorio. Dobbiamo decidere se rimanere in incchia o crescere. Crescere significa promuovere i territori, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista gastronomico, ma anche dal punto di vista occupazionale e produttivo. L'Assemblea regionale è al fianco di questa iniziativa e sono felicissimo oggi di essere qui e di poter dare il mio contributo. La Valle del Noiato è un piccolo gioiello della città di Palermo, piccole comunità che di fatto dialogano costantemente con la città. Vogliamo che si creino delle reti virtuose che ci diano la possibilità di rimanere nella Valle del Noiato, che è dotata di infinite risorse. Ringrazio Io Compro Siciliano per quello che ha fatto in questi mesi. Abbiamo collaborato in maniera spettacolare. Io Compro Siciliano per il sistema tra i produttori e tra la gente e tra le istituzioni. Sensibilizzando i consumatori a un consumo intelligente, a un consumo di qualità, valorizza e promuove il Made in Sicilio, lo diciamo da sempre e lo facciamo da sempre.